Luca Cappellino Revisore 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 Buonasera. Non so quanti di voi hanno confidenza con la parola illustratore. E sanno magari cosa fa. Io vi do un indizio. Solitamente non calcano palchi come questo. Quindi perdonatemi magari se sono un pochino emozionato. Detto questo, l'illustratore semplicemente è una persona che disegna. Disegna per vivere. E i disegni che fa non sono quelli che siamo abituati a pensare. Quelli che abbiamo fatto tutti da ragazzini quando facevamo gli elementari. O banalmente quelli che noi facciamo quando magari siamo al telefono che prendiamo e scarabocchiamo lì sul taccuino. L'illustratore disegna con una finalità differente. che non è quella di decorare, non è quella appunto di intrattenersi. Nel senso, è una finalità appunto illustrativa. Disegna per spiegare dei concetti che sono troppo complessi per poter essere rappresentati diversamente. Viviamo nel mondo della complessità, dove ormai, non lo so, io vi porto sempre questo esempio. La fotografia non riesce più a descrivere tutto. banalmente chiedete a un fotografo di descrivervi la blockchain con uno scatto fotografico. è una questione abbastanza tricky, nel senso è difficile ed è in supporto appunto di… è proprio per questo motivo nel senso che entrano in ballo per professionalità come la mia. quindi l'illustratore altro non è che un progettista del visivo al pari di, non lo so, un grafico, un videomaker, un fotografo. E il suo compito è praticamente quello di aiutare nella comprensione. La comprensione di qualsiasi cosa. Nel senso, io lavoro principalmente nell'advertising e nell'editoria, ma chi fa il mio mestiere in generale, gli illustratori di concetto, altro non fanno che essere ad ausilio alla comprensione di qualsiasi tipo di testo. Tra l'altro, quando parlo di testo, prendo in prestito questa parola dalle lezioni di semiotica dell'università. Quindi con testo io intendo qualsiasi artefatto umano in grado di comunicare qualcosa, in grado di portare con sé del senso. Quindi, sì, siamo delle bestie rare comunque, perché comunque ce ne sono tantissimi e non so quanti di voi nella loro vita hanno sentito mai la necessità di rivolgersi ad un professionista tipo come me. È molto raro, a meno che qui dentro in questa platea non ci siano degli addetti allevori, è veramente difficile sentire la necessità di commissionare l'illustrazione a qualcuno. però esistiamo e anche se in realtà non siamo proprio come la cultura di Mars ci dipinge, ovvero, non lo so, qualcosa di molto simile ad un pittore con una maglietta a righe, un cappello, un vasco tipo un cavalletto e un pennello mentre dipingiamo un plenare tipo sulle rive della Senna. esistiamo, facciamo una vita probabilmente molto meno interessante e anche molto più triste, perché sono sempre lì i gobbi sul tavolo da disegno o comunque sul foglio di lavoro di illustrator. e noi facciamo il nostro lavoro che è farci venire delle idee, far scontare la scintilla. Siamo appunto una categoria professionale che di guizzi, lampi di ingegno e scintille ha fatto praticamente il modo per sbarcare il lunario, per pagare il mutuo e l'affitto. e quindi quando mi è stato chiesto appunto di salire su questo palco e di parlarvi ho pensato che forse sarebbe stato interessante raccontarvi di quello che c'è prima del... quello che viene prima della scintilla. Perché sì, c'è qualcosa che viene prima della scintilla. e quel qualcosa si chiama creative process, il processo creativo. Processo creativo che altro non è che metodologia progettuale. Questo significa che praticamente... Come posso spiegarvelo in maniera semplicissima. Il processo creativo non è nient'altro che praticamente una specie di tramoggia gigantesca dove vengono buttati dei dati grezzi e che mi permettono appunto di riuscire poi dopo tutta una serie di processi che io metto in atto di tirar fuori poi quella che è l'idea per realizzare un'illustrazione. raccontandola in maniera tipo matematica il processo creativo altro non è che un algoritmo. Non è importante quale dato io inserisco dentro l'importante è il processo. Che nel bene o nel male mi porterà comunque ad un risultato. Pertanto io in questi giorni ho cercato un attimino di riflettere appunto su quello che è il processo creativo e su come io l'ho adattato tipo a me stesso e al mio lavoro. E sono riuscito praticamente a tirare fuori ad individuare tre macrofasi della progettazione. La prima è quella dell'analisi dove banalmente nel senso dopo una prima fase in cui io raccolgo i dati che sono banalmente il brief mi concentro poi sull'analisi del contesto. Vedete il contesto è una delle parole più importanti per un illustratore perché è dalla comprensione del contesto che io riesco a capire con chi sto parlando e come devo parlare. Perché concorderete con me col fatto che se io progetto qualcosa che deve finire su New York Times utilizzerò un linguaggio, un tono e un approccio diverso da quello che potrei invece utilizzare per il Reader Digest che è ovviamente una rivista più popolare. quindi conoscenza del contesto significa conoscenza del supporto dove andrà a finire la mia illustrazione conoscenza del target conoscenza anche della cultura del posto in cui il mio prodotto, cioè il prodotto della mia creatività verrà calato. Io racconto sempre, io insegno in alcune università private e racconto sempre questa storiella qui. La prima volta che mi è arrivata la mia prima grossa commissione da parte di una rivista tipo americana era, non ricordo, il New Yorker o il New York Magazine mi chiesero di realizzare un'illustrazione sul riciclaggio di denaro. Ah, facile ho pensato. Banalmente prendo il simboletto tipo del riciclaggio le tre freccine che si rincorrono sostituisco le freccine a delle banconote da un dollaro ed è perfetto, cazzo figata, sono un cazzo di drago. Benissimo. Tutto orgoglioso, prendo, lo mando all'art director e il tizio mi fa, bella Goran, ma cos'è? E io gli spiego tipo tutta la vicenda e lui mi fa, benissimo, ma noi qui il denaro lo laviamo perché in Italia noi lo ricicliamo ma negli Stati Uniti è money laundering, il denaro viene lavato. quindi questo significa conoscere, essere a conoscenza del contesto. Significa appunto conoscere la lingua, la storia e conoscere praticamente qualsiasi sfaccettatura anche le frasi idiomatiche, nel senso concorrono a renderci progettisti migliori. Sun Tzu nell'arte della guerra diceva che appunto era importante conoscere il terreno della battaglia per potersi aggiudicare la vittoria. a questa prima fase ne segue una seconda che è invece una fase di ricerca ricerca che viene fatta tipo parallelamente su due campi la prima è di tipo contenutistico banalmente mi viene chiesta un'illustrazione sulla blockchain sono di giuno riguardo a blockchain devo necessariamente informarmi su quell'argomento mentre la seconda è di tipo stilistico barra morfologico cosa significa? che è una ricerca che chi fa l'illustratore è portato a fare costantemente ed è quella ricerca che arricchisce il proprio iperuraneo ora non so quanto abbiate dimestichezza con questo termine io l'ho imparato praticamente a liceo durante le ore di filosofia l'iperuraneo è il luogo delle idee emanenti dove praticamente vi faccio l'esempio io non conservo tutti i ricordi banalmente devo disegnare un cane nell'iperuraneo io conservo l'idea di cane che è diverso dal conservare il ricordo di qualsiasi cane che ho visto tipo da quando sono alto così fino adesso perché nel mio iperuraneo che poi non è nient'altro che una banca di dati di immagini praticamente io archivio le caratteristiche fondamentali che rendono il cane differente da un qualsiasi altro quadrupide e sembrerà banale ma questo permette ad un illustratore di come dire distinguersi dagli altri colleghi perché se c'è una cosa che è veramente importante nel mondo dell'illustrazione è lo stile e lo stile non è nient'altro che quello che noi riusciamo praticamente a produrre senza l'aiuto di influenze esterne e quando praticamente noi prendiamo qualcosa dal nostro iperuraneo e la facciamo passare attraverso il filtro delle nostre esperienze personali della nostra sensibilità a questa seconda fase poi segue la terza che è quella di composizione dove praticamente l'illustratore inizia praticamente a ragionare per associazioni di idee e succede qualcosa che è molto simile a quando avete per esempio tantissime tessere di un puzzle e banalmente provate ad incastrare robe che non che proprio non matchano perfettamente perché ci affaniamo per fare questo per costruire immagini, scenari che sono inconsueti e che possono in qualche maniera offrire un modo diverso di vedere le cose e magari suggerire anche delle soluzioni e un po' come adesso non so se ve lo ricordate però tempo fa, qualche estate fa c'era quel tipo che aveva tirato fuori quel tormentone orribile pen, pineapple, apple pen l'illustratore fa praticamente questo o una mela o una penna apple pen ecco praticamente questo ed è in questo momento qui che appunto si verifica la scintilla è il momento in cui appunto poi arrivano le idee però come potete vedere non è una cosa così istantanea come siamo abituati a sentircela raccontare perché il processo che porta alla produzione di una scintilla è un qualcosa di lento e faticoso la progettazione che è quello che in realtà io vorrei quasi forse spingere questa sera è come quando tipo c'è è come lo stracotto di cinghiale nel senso è una pentola che borbotta che bolle a fuoco lento le idee cuociono a fuoco lento poi si manifestano in maniera lampante ma tutto quello che c'è dietro è un lavoro molto lungo e pertanto oggi la mia riflessione forse è proprio questa nel senso riconoscere alla progettazione e al processo creativo il ruolo che merita il ruolo di matrice delle scintille praticamente pertanto vi chiedo congedandomi di fare un applauso al processo creativo se lo merita grazie grazie